Ciao a tutti ragazzi, sono Gmet e scusate per la mia inattività sul canale, ma state tranquilli che non ho abbandonato né Terraria né voi. Semplicemente non avevo un computer per creare qualsiasi contenuto. Infatti ho venduto il portatile che avevo, il ricavato l'ho aggiunto a dei soldi che avevo già precedentemente conservato e mi sono comprato questa belva. Bellissimo. Ragazzi, è un PC davvero fantastico, l'ho già provato, va al liscio che è una meraviglia. E direi che possiamo riprendere a fare video domani. Allora ragazzi, sicuramente vi state chiedendo che pezzi ci sono dentro, come l'ha assemblato questo qua? E ora vi dico subito, vabbè, io non l'ho assemblato, però che pezzi ho scelto? Abbiamo una scheda grafica Nvidia GeForce da 2GB, una 730, carina per Terraria. Una motherboard che è una H11OMK, ora non me ne intendo di schede madri, però vabbè, credo che sia. Un HDD a stato solido, da 240 se non sbaglio, ho scelto questa perché l'HDD a stato solido, scrive i dati più velocemente e quindi va meglio per filmare. Poi abbiamo un processore Intel Pentium, non è il massimo il Pentium, però questo è abbastanza carino, dov'è? Un G4400 da 3,3 GHz, dovrebbe essere simile all'i3 se non sbaglio, però ragazzi, come ho già detto, non me ne intendo, potrei aver detto anche qualche cavolata. Comunque lasciamo perdere. Credo che domani, credo che domani uscirà il primo gameplay con questo, con questa Belva, il primo episodio di Terraria. Poi dopo domani molto probabilmente uscirà il video su tutte le novità della 1.3.3, perché mi sono già scritto qualcosa sul computer dei miei genitori, così almeno avevo un po' di roba pronta. Bene ragazzi, direi che ci possiamo salutare qui con questo nuovo fantastico computer. Non si vede perché giustamente ho una lampadina un po' burda in camera mia e quindi non fa troppa luce, fa il tanto giusto. Comunque ragazzi, ci vediamo al prossimo video e ciao!